Due colpi di pistola sparati gli contro a breve distanza, mentre stava rincasando nella sua abitazione, sita in via Marconi, tra San Bias e Nicastro. E' finita così la giovane esistenza di uno dei penalisti più noti di la Mezzia Terme, Francesco Pagliuso, 43 anni, esperto avvocato già impegnato in diversi processi di mafia, tra cui Perseo, Andromeda e Black Money. A trovare il corpo nel corso della notte, i carabinieri allertati dai familiari allarmati dal fatto che il penalista non era ancora rincasato nonostante l'ora tarda. Le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, ora al vaglio degli inquirenti, avrebbero mostrato la sagoma di un uomo che, raggiunta l'abitazione di Pagliuso, sarebbe entrato nel giardino della villetta attraverso un buco ricavato nella recinzione. Qui avrebbe atteso la sua vittima, esplodendogli due colpi di pistola mentre la stessa si trovava ancora in auto, non lasciandogli così scampo. L'ipotesi preponderante in queste ore è che si tratti di una vendetta maturata nell'ambito dell'attività professionale di Pagliuso. L'avvocato aveva infatti un vasto giro di clienti, molti dei quali legati ad ambienti della criminalità organizzata, ma anche persone comuni coinvolte in controversie di natura privata. In più, aveva interessi in vari settori economici, in particolare nel mondo della ristorazione. Si tratta adesso di accertare chi e perché abbia voluto che Pagliuso morisse o uccidendo personalmente il professionista o incaricando a tale scopo un killer. Un omicidio eccellente, quindi, che potrebbe interferire negli equilibri all'interno delle cosche e lamettine. Cristina Iannuzzi per l'AC News 24.